Bisogna puntare su due progetti, il Parco archeologico della Magna Grecia e il Parco Marino della Magna Grecia, due strumenti strettamente legati a Matera 2019 che valgono più di un referendum contro le trivelle nello Ionio. Ad affermarlo il consigliere di Forza Italia Paolo Castelluccio, per il quale, alla mobilitazione contro le trivelle del 15 luglio a Policoro, occorre affiancare anche lo sviluppo dell'arco Ionico. Sulla vicenda trivelle, sottolinea il consigliere, bisogna fare fronte comune contro il governo Renzi ed occorre puntare ad un modello di sviluppo centrato su paesaggio, cultura, produzione agricole di alta qualità che insieme al turismo sono i veri fattori distintivi per lo sviluppo locale. A tal riguardo, precisa Castelluccio, la regione deve sostenere l'istituzione del Parco archeologico della Magna Grecia, prevedendo nel programma FESR 2014-2020 uno specifico fondo che finanzi l'attività del parco sposando altresì l'idea dei sindaci del Metapontino di creare un brand che rappresenti l'intera area funzionale a strategie di marketing intorno ai due beni del territorio, il turismo e l'agricoltura. Inoltre c'è un secondo progetto, conclude Castelluccio, che riguarda l'istituzione del Parco Marino della Magna Grecia, il cui habitat, come quello appunto delle coste ioniche, è sede di identificazione delle tartarughe marine carretta carretta ed una forte presenza di biodiversità sia marine che terrestre.